Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Difensore elegante e autoritario, Roberto Cravero è stato una bandiera del Torino. Nato a Veneria nel 1964, fa il suo esordio in Serie A a 18 anni. Viene mandato per due stagioni in prestito al Cesena. Tornato in Granata nel 1985, si guadagna presto una maglia da titolare, diventando il leader del reparto arretrato. Con la maglia numero 6 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, vivrà la dolorosa retrocessione in B del 1989 e la finale di Coppa UEFA del 1992, persa contro l'Ajax. Si trasferisce poi alla Lazio, dove rimane per tre stagioni. Il 1995 è l'anno del nuovo matrimonio col Torino. Cravero disputerà altre tre annate in Granata, prima di chiudere la carriera nel 1998. Rimane comunque nell'entourage del Toro, ricoprendoli in carico di team manager prima e direttore sportivo poi.